Il bollettino regionale relativo alla circolazione del coronavirus continua a raccontare una situazione in netto miglioramento. Le infezioni da Covid-19 sono in costante diminuzione in Sicilia, in linea con la tendenza nazionale. Nella settimana dal 27 febbraio al 5 marzo nell'isola sono stati rilevati il 13,61% di positivi in meno rispetto alla settimana precedente. L'incidenza media è di 25 casi ogni 100.000 abitanti. Le province più colpite sono quella di Agrigento, Trapani e Palermo. Le fasce di età maggiormente a rischio sono sempre quelle fra i 69 e i 90 anni. Le nuovospedalizzazioni sono in diminuzione e più della metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano vaccinata. Per quanto riguarda i vaccini, date aggiornate al 7 marzo ci dicono che i bambini che hanno completato il ciclo primario di vaccinazione sono il 20,02%. Le persone vaccinate con dose booster il 71,23% degli eventi diritto, incluso le target dai 5 agli 11 anni. Le somministrazioni di quarta dose sono 242.836, delle quali 213.604 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate sono totalmente 9.872.